Si terrà sabato 25 settembre alle ore 20 la presentazione della squadra per la stagione 2021-2022 dell'US Agropoli. Luogo dell'evento Piazza Vittorio Veneto dove la nuova società e i nuovi calciatori si presenteranno al pubblico presente in un simbolico abbraccio. All'evento sarà presente il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il consigliere comunale con delega lo sport Giuseppe Cammarota e vari esponenti del consiglio comunale. La nuova società presenterà tutto l'organigramma societario diramato già a fine luglio e chiaramente sarà anche l'occasione per presentare uno ad uno tutti i nuovi calciatori e lo staff tecnico di mister Giuseppe Cianfrone. Sempre all'interno del programma della presentazione verranno svelate una serie di iniziative atte a festeggiare nel migliore dei modi il centenario dell'US Agropoli. Durante la manifestazione inoltre non mancheranno momenti di intrattenimento per il pubblico. L'accesso alla piazza sarà libero, si ricorda però di mantenere il distanziamento sociale e l'obbligo della mascherina.